Scendiamo invece in Serie D dove sembra ormai palese il fatto che non si giocherà più nella stagione sportiva 2019-2020, di fatto si attende lo stop definitivo della Lega Nazionale di Lettanti ma in casa Foggia sono stati giorni infuocati per il Consiglio di Amministrazione. E' di oggi la notizia con cui Roberto Fellica e Davide Pelusi spiegano di voler andare avanti da soli dopo il no della Corporate Investments Group, detentore dell'80% del capitale del club rosso-nero, alla proposta di un aumento di capitale. Quindi nonostante questo no, il Presidente e l'amministratore delegato assicura una nota, provvederanno a garantire tutte le risorse necessarie per la copertura dei costi di gestione anche attraverso modalità alternative all'aumento di capitale. Il tutto per concludere la stagione 2019-2020 e iniziare a programmare la prossima, a prescindere dalle variabili dovute al coronavirus e dal conseguente blocco del campionato di Serie D, aggiungono Fellica e Pelusi che si stanno valutando le strade più opportune per tutelare interessi e immagine del calcio Foggia 1920.